E' stato accettato dalla team SPA il canone di locazione fissato dal demanio per locare gli spazi della seconda torre ex telecom che ospiterà procura di Bari, polizia giudiziaria, corte d'assise, tribunale di sorveglianza e aule varie. L'annuncia il sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, aggiungendo che adesso il percorso è in discesa. In seguito a questa accettazione, infatti, sarà brevissimo sottoscritto il contratto di locazione e prenderanno il via le attività di adattamento del complesso immobiliare alle esigenze, con la conseguente programmazione delle consegne dei piani. Vengono così recepite le istanze degli utenti della giustizia, ossia magistrati, avvocati, personale e soprattutto cittadini, in attesa della soluzione definitiva del parco della giustizia, spiega il sottosegretario. L'attenzione del Ministero della Giustizia, in mia personale, in qualità di delegato della Ministra Cartabia all'edilizia giudiziaria, alle criticità dell'amministrazione della giustizia a Bari non è mai venuta meno, precisa Sisto. Oggi, finalmente, si sta concretizzando una soluzione valida, ancorché temporanea, ai noti problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia in città, conclude.